ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati benvenuti in questa fantastica campagna non so come si possa dire boschi sono dei boschi ci sono delle campagne ciao a tutti come state allora è durato veramente poco e mi sono alzato di buon umore ma il mio buon umore è durato poco per due motivi principali allora il primo è che mi sono svegliato ancora con la sciatica quindi oggi non sto andando a correre ma oramai ho superato una certa età e quindi non dico più che vado a correre ma vado a camminare avete presente mia mamma che va a camminare con le sue amiche ecco adesso io basta devo farmi devo farmi forza e dire questa cosa ho sbagliato strada ragazzi devo farmi forza e accettare il fatto che non posso più andare a correre ma devo andare a camminare tra l'altro ho sbagliato strada non ho la minima idea di dove io sia vabbè niente fatemi compagnia mi perdo con voi l'altra notizia che no che mi ha messo di cattivo umore no perché oggi sono di buon umore ragazze di là della di là delle battute ovviamente del cinema che facciamo per per scherzare sono di buon umore perché gioca al milan perché finalmente il nostro c milan torna a giocare dopo due settimane in cui siamo stati i primi in classifica e dove potevamo dirlo è perché potevamo dirmi pare che potevamo dirlo da ieri sera non siamo più più in classifica perché l'inter ha vinto la propria partita contro il torino e tra l'altro anche le altre hanno vinto vinto la napoli ha vinto a lazze quindi non dico che il milan è obbligato oggi a fare i tre punti è quello no però insomma vincere oggi vorrebbe dire comunque fare fare una bella prova di forza prima cosa e secondo vorrebbe dire comunque vada cacciare la juve indietro però come vi ho detto ieri come l'ha detto anche pioli ve l'ho detto anche nel video di ieri adesso fare sti calcoli adesso ragazzi un po po così però ovviamente la partita la voglio la vorrei vincere la partita la partita di questa sera quindi torniamo al discorso iniziale l'altro motivo per cui mi sono svegliato e il mio umore è un po cambiato è che a un certo punto guardo stavo guardando twitter x e guardo c'è una notizia milan news ultima notizia bartesaghi out perché 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 proprio bartesaghi perché non è adesso poi parliamo degli infortuni adesso vi faccio tutto un discorso e è incredibile come la sfiga scusate la parola ci veda benissimo perché hai espulso mike quindi mike non ce l'hai a disposizione per la partita e ti si fa male sporti e tu dici ma scusami è ma conto ovviamente con tutto il rispetto ma con tutti i momenti dell'anno tutti i momenti dell'anno in cui sporti sportiello si poteva fare male si fa male al gemello del palpaccio stesso infortunio che ha avuto l'anno scorso mike e si fa male proprio nell'unica partita in cui noi avevamo l'unica tra virgolette in cui avevamo bisogno di lui c'è ragazzi sta roba statisticamente è incredibile un giocatore sportiello che negli ultimi nove anni non aveva mai avuto un infortunio voi direte ok lo ha giocato poco quindi ovviamente poco infortunato vero ovviamente è una considerazione è una considerazione che comunque va fatta nel guardare questa cosa e cosa succede che noi quando eravamo lì sulla nostra scrivania sulla nostra lavagna quanti moscerini sulla nostra lavagna e stavamo scrivendo l'equazione di questa incredibile sfiga noi c'eravamo dimenticati la variante terzino perché per dare conferma a quella che è la nostra teoria la sfiga sfortuna avrebbe dovuto farci infortunare anche il terzino dicevamo ieri e no scusami ai fuori teo cioè per confermare ufficialmente cioè per avere la prova provante si dice che la nostra equazione di quando abbiamo bisogno di qualcuno ci si fa male quello che è il backup ieri dicevamo e no cioè per per far sì che questa teoria funzioni ci si deve far male anche il terzino se no è cioè se non è troppo semplice se no questa teoria non funziona intanto ho trovato la strada forse fatemi vedere i cartelli lì sapete che con l'all into the wild vi porto con me e allora stavamo tra l'altro cosa c'è in terra guardate un sacco di un sacco di legnetti non so cosa hanno combinato qua quindi per confermare quella appunto vi stavo dicendo per confermare questa teoria santuario no santuario no vado di qua va bene c'è l'omino con la bici vado di qua quindi per confermare questa teoria che stavamo scrivendo sulla lavagna ci serviva l'infortunio del terzino nella notte cosa succede succede che bartesaghi si fa male la caviglia ora non so io non lo so è non so dirvi se si è fatto male nella notte significa che mentre si è alzato per far la pipì questa notte è andato e ha sbattuto la caviglia contro la porta ok non so dirvi se questo infortunio questo lieve infortunio che ha avuto la caviglia è successo ieri dopo la conferenza stampa di pioli non lo so ragazzi non lo so fatto sta e qua arriviamo alla considerazione chiudo il discorso sulla sfiga e poi facciamo un discorso razionale invece quindi la nostra teoria che ieri abbiamo esposto all'interno dell'università della sfiga mondiale perché siamo andati lì per spiegare la nostra la nostra teoria alla nostra teoria per essere ovviamente prova provante serviva l'infortunio del terzino e quindi arriva proprio l'infortunio del terzino e quindi questa mattina alla all'università della sfiga mondiale hanno detto che sono alzati tutti in piedi tutti bravi bravi avete avete dimostrato l'esistenza della sfortuna perché era questo che volevamo fare no? sapete che mi piace romanzare su queste cose poi quindi passata questa cosa arriva invece il discorso razionale allora scindiamo un attimo le cose ok scindiamo scindiamo un attimo gli infortuni muscolari dagli infortuni traumatici perché la persona meno attenta ok e la persona che come al solito vuole vuole utilizzare i fatti accaduti semplicemente per creare robe negative per creare allarmismo arriva e dice come ho visto prima sulla pagina i milanisti arriva licenziate tutti perché se fatto male bartesaghi bisogna assolutamente licenziarli tutti e poi la frase immancabile ovviamente sempre scritta tutta in maiuscolo vanno mandati a casa tanti punti esclamativi con gli uno no? tanti punti esclamativi con gli uno no? tu che sei una persona diciamo non pretendo che lo sappiano tutti però tu che sei una persona un pochino più conscia e competente realista cosa fai guardi i fatti e non ti limiti a leggere i titoli guardi e vedi che bartesaghi si è fatto male alla caviglia siccome l'infortunio alla caviglia è un infortunio di origine traumatica italiano traumatica vuol dire che deriva da un trauma ok quando un infortunio deriva da un trauma persona intelligente mi rivolgo alle persone intelligenti quando l'infortunio deriva da un trauma è responsabilità riconducibile al preparatore atletico domanda se il giocatore è fermo in mezzo al campo sano bello che gli arriva il sole no adesso così tutto bello che si guarda in giro nel verde del campo sportivo di milanello mentre lì tutto bello sano arriva il giocatore y silon li va sulla caviglia e li fa male alla caviglia secondo voi è responsabilità del preparatore atletico può essere responsabilità del preparatore atletico se ieri sera bartesaghi mentre era nel suo letto dopo aver bevuto la sua bella tisanina per prepararsi per la partita di oggi scende dal letto e sotto al letto c'è la palla del suo cane sto esagerando e sto estremizzando il concetto c'è la palla del suo cane e lui mette il piede sulla palla del suo cane e si prende una leggera storta che non li permetterà non li potrebbe permettere uso sempre il condizionale stasera di far parte della partita è colpa dei preparatori atletici cioè bisogna come sempre non generalizzare perché se generalizziamo va a finire che poi dopo facciamo dei discorsi che sono approssimativi ok veniamo alla seconda parte di questa di questa considerazione e qual è la seconda parte lollo però da inizio dell'anno abbiamo avuto quattro infortuni muscolari ieri mi scriveva qualcuno di voi sotto sotto i commenti vero vero sì chi di dovere eravamo già passati qua una volta ragazzi vi ricordate che c'era una roba c'era tipo una capanna lì ricordate che eravamo già passati una volta da qua mi perdo qua invece nel momento in cui finisco di discorso invece nel momento in cui ci sono stati quattro infortuni muscolari da inizio anno chi di dovere quindi lo staff lo staff di mister pioli che si occupa della preparazione atletica e degli infortuni se ritiene che e io non lo so eh io non lo so se ritiene che questo dato non sia conforme con tutti gli altri dati di tutte le squadre di serie a è giusto che vengono prese dei provvedimenti cioè che le metodologie di lavoro utilizzate fino a questo momento ovviamente parlo anche degli anni passati cioè tipo faccio un esempio stamattina ho visto che qualcuno di voi diceva eh ma scriveva eh ma lollo noi sono quattro anni che abbiamo più infortuni di tutti gli altri vero assolutamente figuratevi se il mio cavallo di battaglia ragazzi quante volte ve l'ho detta questa cosa quest'anno però mi pareva di aver visto che addirittura il Milan come allora come minutaggio degli assenti erano alti cioè minutaggio dei giocatori non a disposizione eravamo alti ma perché perché abbiamo fuori Isma perché abbiamo avuto fuori Calulu tanto tempo quindi il dato era molto molto alto invece per quanto riguarda la l'unità singola degli infortuni mi sembrava che il Milan stesse migliorando infatti se vi ricordate in una live di qualche di qualche settimana fa me l'avete chiesto sul canale ufficiale del Milan me l'avete chiesto e io vi ho detto cavolo è vero è vero ragazzi è vero è vero è vero ma non diciamo niente perché sennò ci portiamo sfiga ecco che come come non detto quindi i discorsi vanno vanno divisi cioè i discorsi vanno divisi da una parte va va presa assolutamente chi a chi di dovere che è il suo lavoro viene pagato migliaia di euro al mese per fare questo tipo di lavoro se ritiene che la metodologia utilizzata fino ad oggi comporti dei numeri che sono differenti da quelli delle altre squadre allora dovrebbero cambiare secondo il mio punto di vista ma credo che lo sappiano anche loro benissimo dovrebbero cambiare metodologia di di preparazione di allenamento insomma mettetela come volete dall'altra parte se invece così non è perché questi quattro fortuni rientrano all'interno dei parametri di infortuni delle altre squadre non lo so ragazzi c'è tipo mi viene in mente un'altra cosa si fa male il ciucu si fa male il nazionale si fa male osimen si fa male altri giocatori cioè non lo so fino a che punto possa essere una responsabilità dei preparatori atletici del milan non lo so ragazzi perché poi sapete lì entra tanto in campo anche il discorso dei giocatori sono predisposti o meno agli infortuni eccetera eccetera ho parlato 13 minuti ragazzi porca vacca vabbè niente allora partita di questa sera ragazzi mai e magari mai mirante calabria ciao tomori florenzi per me gioca musa musa jacine reinders chris pulisic oliviero bomber vero e rafaleao formazione di questa sera qualcuno mi ha detto lo ma se si fa male florenzi o florenzi vuole uscire chi gioca entro io anzi no non entro neanche io perché io c'ho la sciatica quindi niente devo andare a farmi vedere fa male ragazzi vi saluto vi ringrazio volevo fare un video corto ho fatto un video di un quarto d'ora ciao a tutti forza milan e ci vediamo questa sera per il video post partita mi raccomando positivi sempre nella vita vivete la vita così come se foste in un bellissimo campo io il bellissimo campo vi salutiamo ci vediamo questa sera ciao ragazzi video post partita fate i bravi buona domenica a tutti ciao ciao